Caduta Sayan, è vietato scavallare gli operai, pericolo di vecchi che derubano altri vecchi, divieto di nulla, vietato prendersela con gli angoli, qui i treni fanno ancora schifo, pontile per spaghetti, divieto di zorro, pericolo di Zeus, questo ho paura a descriverlo. Se non vi ricordate come cazzo si apre il portellone, chiudete gli occhi e sorridete. Risulta difficoltoso entrare in ascensore se le porte sono chiuse. Se vedete un'esplosione nucleare, andateci dentro. Marito e moglie non possono suicidarsi se non sono perfettamente sincronizzati. Rubate l'ossigeno ai nani. Chi verrà sorpreso con i risvoltini e i pantaloni sarà fatto scendere dall'aereo. Chi si addormenta verrà buttato in mare. Se vi trovate in un sommergibile, aprire il finestrino per prendere un po' d'avia fresca non è la migliore delle idee. Se siete appena precipitati in mezzo all'oceano Pacifico, fate finta di niente e mangiate una goleador. Le passeggere con i baffi sono pregate di lanciarsi di sotto.